Le marche premiate dal Ministero dell'Economia sono al secondo posto in Italia per il sistema sanitario, ma se si analizzano i tempi delle liste di attesa, ad esempio per una risonanza, si capisce che qualcosa non va. L'azienda ospedaliera San Salvatore ha liste d'attesa, a seconda della tipologia, che rispondono a tempi diversi. Ossia ci sono una serie di prestazioni, avete visto forse sulle croniche di oggi il riferimento agli eco-color Doppler, che vengono effettuati oltre che dall'ospedale e anche dalle zone territoriali. E io ritengo che un'adeguata risposta sul territorio debba essere garantita nel rispetto dei tempi previsti dalle normative nazionali. E quali sono questi tempi? A Pesaro, per una risonanza, bisogna aspettare circa 200 giorni, che diventano 243 a Macerata. Ad Ancona, Ascoli e Fermo si aspettano 150 giorni, ovvero 5 mesi, quando le prestazioni andrebbero fornite entro 60 giorni. Le liste d'attesa, nonostante i piani di riforma sanitari regionali, non hanno subito nessuna accelerazione nel senso di accorciare la tempistica. Noi medici di famiglia in questo contesto pensiamo che, per quanto ci riguarda, occorrerebbe una gestione più diretta verso la medicina del territorio, quindi più verso il medico di famiglia, sburocratizzandolo innanzitutto. I medici di famiglia, inoltre, devono rispettare un budget di spesa predefinito, quindi devono stare molto attenti al numero di visite che prescrivono. C'è poi un altro problema, quello di chi abita nell'entroterra. Ha più possibilità di salvezza un paziente della costa in caso di emergenze. Occorre che ci siano pari opportunità di assistenza, dal paziente che abita nella valle del Musone, al paziente che abita nella valle del Misa. Quindi queste cose sono state più volte sottolineate, ma evidentemente, ripeto, c'è un meccanismo di spesa, di cosiddetto tetto di spesa, che impedisce comunque a chi dirige la sanità di mettersi nei panni del cittadino comune. A ridurre le liste di attesa ci penserà il centro unico di prenotazione regionale. A breve verrà attivato un unico numero telefonico. Sta lavorando a questo il San Salvatore di Pesaro. Ci aspettiamo una riduzione delle liste d'attesa perché, chiaramente, non ci saranno più quelle, come dire, quelle prenotazioni doppie. Per intenderci, quando magari una prima prestazione viene prenotata in una sede e poi ci si rivolge ad un'altra sede per ottenere la stessa prestazione, non sempre la prima viene annullata. Potrebbe aiutare a diminuire i tempi di attesa anche la creazione di ospedali di comunità, dove è il medico di famiglia a gestire un piccolo distretto. Noi siamo convinti che la riappropriazione di servizi da parte del medico di famiglia nell'ambito distrettuale potrebbe essere veramente una soluzione egregia per riportare sia la sanità al centro dei cittadini e nello stesso tempo di avere una spesa più equa e solidale.